Oddio Che palle, proprio adesso mi chiamano Ma davvero? Chi è? Ah Avverto subito che sono Non raffreddato, però comunque molto con l'asiritato Quindi ho dovuto lasciare per forza la finestra aperta Quindi se sentite qualche macchina che passa O spari o cose strane Tranquilli, è normale Cioè non è normale, però tranquilli, è normale Speriamo non si metta a suonare l'allarme dei vicini Non mi interessa, non mi interessa Come sentite sono un pochino bloccato Però solamente per un po' di polvere Si è impolverato tutto questo posto E quindi ora sto cercando di tenere un po' l'aria pulita E gli uccellini stanno facendo un casino totale Non me lo aspettavo Non pensavo fossero così disturbanti Ma sono gli uccelli del gioco? I sound effect del gioco? Sono gli sound effect di fuori Non capisco Vabbè, non importa Oddio, non dovevo neanche far vedere in realtà Cosa c'era lì dentro In realtà dentro, come potete vedere, c'è una macchina Non posso mostrare in realtà Volevo fare tipo a mo' di sorpresa Però vabbè, purtroppo non si può fare mai Quindi in totale vi faccio vedere la nuova macchina che abbiamo messo Una macchina semplicissima Però volevo portare le macchine reali Cioè nel mondo della vita reale E quindi sempre per questo tipo di definizione Ho portato una Mercedes-Benz MGGTR Classe 2017 Bellissima È bellissima ragazzi Cioè guardate, aspettate Vi faccio vedere come diavolo è fatta bene Cioè intanto le foto Guarda quanto è bella Quanto è bella È bellissima Oddio Comunque ci sono tanti tipi di modelli Quindi voglio un po' provarli a vedere tutti Guardate che figata nei dettagli E infatti mostrerò questo tipo di cose Infatti Naturalmente non vi faccio la storia di questa macchina o niente Però comunque è fatta veramente bene Infatti noi abbiamo questo modello qui Lo mettiamo al sole Perché in realtà è un modello un po' strano Pirelli Petronas Non so cosa sia Però sta maledettamente fatto bene NURBURGING Oddio Aspetta Ah sì Il tracciato di NURBURGING Ah che bello Che classe Che classe Vabbè MG Ok aspetta Non riesco a muovermi Ah Uffa Devo leggere così Ah GTR Ok Patronate E Cosa c'è scritto Formula One Team Formula One Team Ok Team di Formula One Ok E volevo leggere un po' di cose Perché in realtà Ognuna ha il suo Ha il suo modello particolare Questa qui infatti è Oddio C'è L'Opodafone C'è H&R C'è Recaro Recaro Io non li conosco niente Di tutte queste marche Qualcuno conosce queste marchettone Non lo so Io no Cioè A parte qualcuna L'operatore mobile Non ne conosco altre Comunque possiamo entrare dentro Finalmente Guardate quanto è bella Sentiamo il rumore Bello Mi è piaciuto Mi è piaciuto Accidenti Devo veramente iniziare a Guardate Vedete questa cosa Questi pneumatici Che stridono così tanto Purtroppo Io Purtroppo Essendo che mi muovo con tastiera Non posso permettermi di fare altro Vedete E quindi le ruote slittano Perché le auto sono potenti E tutto quanto E quindi ogni volta che premo doppia Mi fa così Devo prendere il mio controller Ho il controller della PS4 qui Dovrei approfittarne più spesso Ed utilizzarlo più spesso In modo da poterci muovere Diciamo gradualmente Perché io appena faccio così Non posso Guardate Si ferma Non mi riesco a fare Un'andatura normale È difficilissimo E infatti Vabbè Comunque Vedete Cioè è impossibile Oh ecco Guarda Guarda È davvero improbabile Comunque Scendiamo da questa macchina Accidenti In realtà volevo aprirla Tutta quanta Però Ok posso aprire Tutti quanti i finestrini Tra l'altro Non mi interessava Chiudi tutto Di nuovo È bello che posso chiedere Tutti All windows Ok perfetto Portiere ecco Volevo aprire quelle Diver door Ok La passenger door La vasseggero La near Left La near left Ovvero Cosa ho aperto Non c'è Non lo so Vabbè Ah ok Quella è dietro Però purtroppo questa Non ce l'ha Oh Non metterci le mani Nel ventilatore Non essere consigliato Da metterci qualche roba Dov'è il liquido Del refrigeratore Di tutto quante queste robe Non lo trovo io Non c'è Perché non c'è No aspetta Forse quello lì Non lo so Uffa È complicato È complicato Sto motore In compenso È fatto davvero bene Ecco ho trovato la ventola Lo sapevo l'avere trovata Infatti è qua dentro Appunto nel radiatore Ok A parte qualche dettaglio Su non fare certe cose Però niente di particolare No Però è interessante Ok va bene Abbiamo visto abbastanza i motori Dietro possiamo vedere Che c'è Abbastanza spazio Comunque Ragazzi in questo momento Non si vede Ma io sto piangendo Da quanto sono Io vi ho bloccato Non raffreddato Perché non lo so Non raffreddato Sono solamente bloccato Ho dormito male A proposito Domani Visto che sto registrando Il 10 settembre Domani esce l'iPhone 11 Cioè O no oggi viene presentato Peccato che non abbia Il tracciato di Nurburgring Perché esiste Una mod che la introduce Su GTA È bellissima Sta macchina Oddio Accidenti Guardate quanto è bella Da dentro Che ficata È bellissima Ops Boia 8000 giri C'è la mia macchina Se arriva 8000 giri Si Si brucia tutta Si brucia Si brucia Oh mio Dio Ok 6000 giri E non riesco Andando a più di 6000 giri Davvero Accidenti Cosa Come è possibile Come è possibile Vabbè Vabbè No non ci posso credere Ragazzi Sono tornato dentro Cioè Allora ho fatto Aspetta Aspetta Ho fatto un salto da qui Sono caduto fino a qui Sono volato fino a qui E sono saltato qui Cioè Boh È Più improbabile di questo Dio Cioè C'ho il Aspetta Come si è Aspetta C'ho il flash replay Vero? Si Instant replay disattivato Accidenti Niente Quello che Mi interpone Mi blocca Avere una macchina Diesel Catti Che cazzo Cosa erano? Wow Che animali erano quelli? L'inchicat Vabbè Cioè Mi importa tantissimo Degli animali Però Delle persone in moto Non me ne frega nulla Sono cattivissimo Una betoniera Oh Meno male che non c'è Uno di quelli che trasportano Liquiditiammabile Perché Come vedete Ne hanno trovati otto insieme Cioè Davvero Cioè È possibile Però Era davvero improbabile Un altro Lo vedo lì davanti Ragazzi Guardatelo Guarda quante moto Wow Ops Come sono finito così Va bene Ok Il veicolo è bello Però possiamo spawnarne altri Credo Ho l'idea almeno Il file dove si sparano È gtrc C Per cosa sta? Cioè Guardate ragazzi Aspettate Scusatemi Spawno il veicolo Si chiama gtrc Non capisco da dove viene gtr Gtr ok Capito C però A che cosa è riferito? La class Gtr class Non lo so Comunque Vedete questo qui È il modello diverso Con la livrea diversa Ecco Non è che sto dicendo cosa Allora Ok Ah c'è la modello Puoi incollare al terreno Che figata Almeno non slitta mai Guardate Wow Sì invece slitta Però non Ah non può neanche fare i salti Né nulla Che figata C'è figata C'è figata fino a un certo punto Aspetta E' bellissimo Perché vai E poi tac Vi dico il jump Ci sono tante roba Cioè tipo Anche guidare sull'acqua Ok Perfetto Trovata Adesso Entriamo Dai muoviamoci Eccoti Ciao Possiamo fare tutte le armature Però in effetti Non mi serve nulla Serve solo per spendere soldi Se Motori Vabbè Sono tutti uguali In realtà Non cambia nulla Do ciasca do re Mi fa Sol La Ste Do Ok Aspetta Posso provare a fare una cosa Vi faccio un audio musicale Mi fa Fa Mi Re Re Mi 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 re Mi re Do Mi fa Fa Mi Mi Re Re Do 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 No non so Mi fa Mi re Mi 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 re Do Mi fa Mi re Do 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 Dovrebbe essere questa Che sarebbe la canzone di Blow in the Wind Tre anni di musicale mi sono serviti a fare questa cosa Ok ci ho perso la vita Però lo vedrete molto più carino in editing Io invece sono dovuto andare a vedere tutte quante le canzoni Madonna che fatica Usciamo da qui Sì grazie No raga ho fatto Ho fatto Blow in the Wind Ho fatto Oh madonna ho tirato qualcosa Ottiva Ho fatto Blow in the Wind Con il claxon di GTA Mi sento un E non so ancora come faccio tre anni di musicale per fare questa cosa Vabbè Non so se mi sento un genio o un imbecille Però è velocissima ragazzi questa macchina Non so se è velocissima perché ora l'ho portata adesso eh Perché l'ho portata in quel posto lì Però Sembra piuttosto veloce Anzi non mi lamento Ehi Un evento dinamico Occhio Wow Guarda che controllo Che controllo Vabbè Anche se sono contromano però Guardate che figata Si vede il riflesso della luce dei padiglioni Vabbè Aspetta ragazzi Voglio vederlo meglio Guardate che figata Si vede l'effetto delle luci riflesso nel Wow In realtà Sto facendo più vedere la mod grafica che la macchina Guardate che figata Le luci sono tutte cambiate Wow Ma no E' tutto illuminato Che è Accidenti però Come diavolo si è fatto A fare tutto sto casino Vabbè Andiamo qui a sinistra E baffano Non ci pensiamo più Andiamo sotto forza al cudo Ho fatto vedere praticamente tutto Guardate che bello Io i riflessi li adoro ragazzi Guardate Potete goderveli meglio qui Guardate che bello No vabbè E' meglio il cielo stellato Cioè il fatto che riflette il cielo stellato E' pazzesco guardate E' bellissimo Potevate dire Eh si Però potevi prendere una Mercedes più nuova Potevi prendere Oltre la Mercedes Altri veicoli Si lo so ragazzi Però Ci tenevo tanto a recensire questa Mercedes Perché E' un MG Niente di più Non ho motivo in realtà Solo che Oh mio dio La Fiat Punto Panto cos'è La Panto? Non ricordo Wow che velocità Ragazzi qui possiamo fare anche una rapina volendo Non so se si può fare Perché ho ancora la mod da rapinatori installata Voglio vedere se è possibile Oddio Quello mi sto seguendo Ok ragazzi Credo di essermi abbastanza soddisfatto Di tutto quello che si è fatto Di tutto quello che si è usato Boh ne sono felice Ne sono assolutamente felice Quindi niente ragazzi Wow che bella è sta macchina Il video di oggi finisce Il video di oggi finisce qui Tra i miei link della mod in descrizione In caso vogliate scaricare questa mod Io spero che vi sia piaciuto Perché è bellissima sta macchina Se volete scaricarla e provarla È in descrizione Noi ci si vedete in un prossimo video Un saluto da Wolf E bello a tutti Ciao Ciao